Ciao! Nel video di oggi vediamo come inserire la retromarcia nella nostra Opel Corsa del 2022. Come vedete ha sei marce e una che appare qui a sinistra, che è la R, che sarebbe la retromarcia per inserirla. Dobbiamo usare due dita. In questa fessura che sale, e come vedete, va già su. Premiamo la frizione, tiriamo su e inseriamo come se fosse la prima. E lì avremmo già inserito la retromarcia per rilasciarla. Basta semplicemente lasciarla andare. Non c'è bisogno di fare altro.